Salve amici sportivi di Avellino Calcio TV, domenica si è disputata alle ore 17 Sassuolo-Avellino, team cup. Il Sassuolo con un 4-3-3 schiera Pomini, Laverone, Bianco, Terranova, Longhi, Bianchi, Magnanelli, Missiroli, Troianiello, autore del gol, Pavoletti, Berardi e a disposizione Perilli, Troiano, Gazzola, Marzoratti, allenatore Di Francesco. Avellino con un 4-4-2 risponde con Fumagall in porta, Bittante, Izzo, Giosa Pezzella, Catania, Panatti, Angiulli, Millesi, Castaldo De Angelis. A disposizione Di Masi, Zappacosta, Fabbro, Massimo, allenatore Rastelli. Arbitro, Pairetto, Guardalini e Schenone e Segna. Quarto uomo, Piccinini. Primo tempo. È in sordina l'avvio dell'Avellino che lascia il palino del gioco nelle mani del Sassuolo. Sono degli emigiani le occasioni migliori. Al settimo Fumagall attento su una punizione di Magnanelli, mentre un minuto dopo ribatte una conclusione a colpo sicuro di Troianiello. L'Avellino risponde con una punizione di De Angelis, respinta dal portiere con i pugni Pomini. Ma al ventisettesimo il Sassuolo passa. Pavoletti dalla sinistra dopo un recupero di Bianchi su Panatti. Serve Troianiello che al volo supera il portiere dell'Avellino. L'Avellino non reagisce e Rastelli al quarantunesimo perde Panatti, infortunato inserendo D'Angelo. Secondo tempo. È poco lucida la reazione dei Lupi, almeno in avvio ripresa. Il Sassuolo sfiora subito il raddoppio con un colpo di testa di Bianco. Poi Rastelli si gioca la carta Herrera. Il Panamense si fa notare su punizione al ventiquattresimo, subito dopo la traversa colpita da Terranova, su angolo di Berardi. Al ventitresimo entra anche Pitone Biancolino, ma l'esperto attaccante partenopeo non riesce ad incidere come vorrebbe. L'occasione giusta capita a Catani in pieno recupero, ma il suo colpo di testa è deviato da una grande parata di Pomini. Il Sassuolo così accede al terzo turno di Team Cup, ad attenderlo sabato il Catania.